Acrocefalo sindatilia tipo Apert Dismorfia congenita caratterizzata da acrocefalia, sindatilia simmetrica totale delle quattro estremità e occasionalmente altre anomalie malformative. I sintomi principali sono costituiti da turricefalia con apice del cranio localizzata anteriormente al bregma, per chiusura precoce della sottura coronale e sagittale. Arcate sopraccigliari sporgenti, sovrastate da un soco trasversale, cranio a casco di pompiere. Iperterrorismo, esoftalmo talmente grave da aggiungere talvolta quasi alla russazione dei globi oculari, porzione intermedia della faccia poco sviluppata, naso a becco di pappagallo. Sindatilia cutanea di tutte le dita, mano a cucchiaio, con possibile acrosindatilia ossea ed unghie sostituite da un'unica formazione cornea. Ai piedi, raramente il processo sindatilico include anche il primo raggio. Talvolta, rigidità articolari ed anomalie degli organi interni, cardiopatia congenite, aplasia polmonare, stenosi pilorica, ectopia dell'ano, rene policistico e del sistema nervoso, idrocefalia, assenza del corpo calloso. Intelligenza ritardata in alcuni casi, normale in altri, crescita staturale inferiore alla norma. La malattia si trasmette con eredità autosomica dominante, frequenti casi sporadici, riferiti a mutazioni recenti. Acrocefalo sindatilia tipo Apert Bambino di 4 mesi Osso frontale a ventaglio Appuntimento della calotta cranica al vertice Acro sindatilia ossea alle mani Sindatilia cutanea ai piedi Acrocefalo sindatilia tipo Apert Bambino di 6 mesi Turicefalia Fronte alta Fronte alta Occipite piatto Strabismo Naso da papagallo Prognatismo Stesso caso Mano a cucchiaio Turicefalia Sindatilia Sindatilia serrata delle dita del piede con esclusione dell'aluce Acrocefalo sindatilia tipo Apert Bambina di 4 anni Mano a cucchiaio Tetrasindatilia del piede Stesso caso Turicefalia Ipertelorismo Esoftalmo con sublussazione dei globi oculari Estrabismo divergente Naso a papagallo Acrocefalo sindatilia tipo Apert Esempio di familiarità Con aggravamento della displasia cranica nella figlia rispetto alla madre E comparsa nella stessa della sindatilia ossea che unisce l'apice di tutte le dita Acrocefalo sindatilia tipo Apert Soggetto già sottoposto a plastica ricostruttiva delle dita delle mani Sindatilia totale delle dita dei piedi Acrocefalo sindatilia tipo Apert All'indagine topografica risulta la complessa alterazione della base cranica Costituita da aumento della distanza interorbitaria Radoppiamento delle strutture mediali Frontalizzazione delle cavità orbitarie Ed accentuazione della divergenza degli assi delle onde Grazie a tutti